E' il primo Natale con il nuovo Vescovo per la Diocese di Mileto Nicotera e Tropea, è il primo Natale da Vescovo per Monsignor Attilio Nostro, che per l'occasione ha scelto un video messaggio registrato in un luogo dal forte valore simbolico per dare ai fedeli il suo augurio di Buon Natale. Ho colto l'occasione di questa visita che abbiamo fatto al centro dei ragazzi di Don Mottola per augurare a tutta la Diocese, ma a tutte le persone di buona volontà, un Natale passato in famiglia, così come noi lo stiamo passando in questa casa che è una famiglia. Allora, tutti quanti in coro, noi auguriamo tanti auguri di Buon Natale! Ciao! E' bellissimo, grazie Roberto, grazie, grande, grande. E' da tutti i ragazzi, no? Ho detto grazie a Roberto perché l'ha consegnato a nome di tutti, c'è scritto a sua eccellenza con affetto i ragazzi del centro Don Mottola, tropea 22-12-2021. Questo è il mezzo di lavoro. Esatto, 2021. Grande.